La passione alla scrittura nasce grazie alla passione per la lettura. Io dico sempre che da giornalista, e credo che valga anche per uno scrittore, la cosa più importante non è scrivere, non ci si allena continuando a scrivere, ci si allena leggendo, leggendo bene, i libri giusti. Quindi la passione per la scrittura è nata dopo la lettura. Prima ho cercato di leggere, grazie ai consigli di qualche buon professore che ho avuto la fortuna di avere, i libri giusti, e da lì è nata la passione della scrittura. Dal mondo, da realtà, poi da giornalista, vai a una mostra, vai a un festival letterario, vai a un incontro con l'autore, e lì, vedendo quello che accade, cerchi da giornalista, non da romanziere, perché non sono romanziere, di raccontare quello che vedi, di raccontare che cosa produce e offre il mondo della cultura e come il lettore, l'amante dell'arte o del cinema, sfrutta, usa e vive quella cultura che gli viene offerta.